Questa è una persona che non si riflette in me, non è la Sonia che conosco io. Ho dei flash, ho delle immagini, ho come dei grandi buchi neri. Ho questa immagine di me che inietto quest'aria. È un impulso che non so ricordare, non so definire. È come se fossi un'altra persona che ha agito al mio posto. Ero molto fredda, distaccata. Subentrava forse una parte di me che io ancora non conosco. Quella che agisce, che si fa del male. Questo martellamento mentale di dirmi, continua ad andare avanti. Ripeti fin quando non vedi che sta male, fin quando non vedi che succede qualcosa. E mi prendeva anche una sorta di ansia di fare le cose più velocemente. Mi rendo conto che sicuramente c'è qualcosa che non va proprio a livello di testa. Una persona normale non farebbe mai una cosa del genere. Ero cosciente di avere fatto un'azione molto dura. Orrenda, sì. Solo dei mostri possono fare delle cose del genere. Intanto.